I giudici della Corte d'Assise di Bologna hanno condannato all'ergastolo il neofascista Paolo Bellini per la strage alla stazione del 2 agosto 1980, un attentato in cui rimassero uccise 85 persone e ferite oltre 200. Bellini, ex attivista di Avanguardia Nazionale, è in contatto con ambienti dei servizi segreti e il quinto attentatore a venire condannato dopo Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Dal processo emergono le figure di Riccio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti, considerati i mandanti e i pianificatori dell'attentato, compiuto nel quadro di azioni clandestine di guerra psicologica condotte da apparati riconducibili alla Nato.